Oggi ci troviamo a Borno, un paesello di montagna di 2600 abitanti della Valle Camonica, raggiungibile attraverso la strada provinciale 5, che sale da Ostimo e porta ad Azzone, in Val di Scalver. Immersi in un ambiente naturale puro, tra boschi e acque, tra vallate e montagne circondati dal verde dei pascoli. Per gli appassionati di ciclismo e mountain bike troviamo strade sterrate e mulattiere. Per le vie del centro storico a chi piace fare shopping troviamo eleganti negozi di varie attività. Bed and breakfast e hotel per il tuo soggiorno. Monte Altissimo è la meta turistica per eccellenza di coloro che, ai costi ed alla frenesia dei grandi centri, preferiscono la familiarità di piste e rifugi. Ottima nei mesi invernali è la stazione sciistica. 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 Frutta e verdura Pezzali Marco, via Brennero 14 Bar Presolana, via Vittorio Veneno 93 Per te acconciature, via Vittorio Veneno 92D Benetton, via Vittorio Veneno 86 Gelateria artigianale di Borno, Ghitti Bruno, via Vittorio Veneno 92 Grazie a tutti Piadineria New Gambrinus, via Vittorio Veneno 58 Tabaccheria Polugnoi Riccardo, via Vittorio Veneno 41 Grazie a tutti Questa sera in coro canterai canzon d'amor So chiudendo gli occhi sognerai il tuo tesor Alla luna parlerai di lei con tutto il cuore Alle stelle parlerai di lei, di vero amore, oh bosca Calzature Piccimonica, via Vittorio Veneno 52 Tramontà, lascia il lavoro, torna il tuo caso là, con l'ascia a spalle, così cantando torni tu, discendi a baller, verso il tuo amor laggiù Shopping Sport di Lenzi Pietro, via Vittorio Veneno Nella bruma la tua casa già ti appaia, lascia il lavoro, è tempo ormai di riposar, oh boscaiolo, torna il tuo caso là MyStyle, acconciatura uomo-donna, via Vittorio Veneno 8 Di lontano si profila il tuo villaggio, nella bruma la tua casa già ti appaia, lascia il lavoro, è tempo ormai di riposar, Oh boscaiolo, torna il tuo caso là Agenzia Franzoni, piazza Giovanni Paolo II 6 Il frutteto, di Miorini Ramona, piazza Giovanni Paolo II 5 I'ergo Piazza Giovanni Paolo II 5 Bed and Breakfast Zanaglio, via Trieste 3. La forneria, pasticceria, fratelli e regali, via Vittorio Veneto 55. La forneria, pasticceria, fratelli e regali, via Trieste 3. La forneria, pasticceria, fratelli e regali, via Trieste 3. La forneria, pasticceria, fratelli e regali, via Trieste 3. La forneria, pasticceria, fratelli e regali, via Trieste 3. La forneria, pasticceria, fratelli e regali, via Trieste 3. Tapioca, via Vittorio Veneto 37. La forneria, pasticceria, fratelli e regali, via Trieste 3. Di lontano si profila il tuo villaggio, nella bruma la tua casa già ti appa... More al fungo, lavorazione artigianale, funghi di bosco, via Vittorio Veneto 42. Pasticceria, 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 via Vittorio Veneto 15. Alla luna parlerai di lei, con tutto il cuore, alle stelle parlerai di lei, di vero amor. E o boscaio scfahrerbi e giù앙mezzi e regali, sua boll resolved. E o boscaio robo, il sole sta per tramontan' Lascia il lavoro, torna il tuo caso lar. Con l'ascia a spalle, così cantando torni tu, discendi a baller, verso il tuo amor laggiù. Di lontano si profila il tuo villaggio, nella bruma la tua casa fa... Pizca Mì, ristorante, pizzeria, via Don Pinotti, undici. E' il tempo ormai di riposar, oh boscaiolo, torna il tuo caso là. Forneria e l'antico forno, via Don Pinotti 8. Di lontano si profila il tuo villaggio, nella bruma la tua casa già ti appa... Lascia il lavoro, è tempo ormai di riposar, oh boscaiolo, torna il tuo caso là.